Elena e Ibrahim si sono conosciuti nel settembre del 2018. Ibra, come da subito Elena ha cominciato a chiamarlo, era in Italia da pochi mesi. Elena, ogni ragazzo è speciale a suo modo, ma Ibrahim, determinato e sicuro di sé, aveva nello sguardo una luce particolare che si accendeva, aumentava o sfumava ogni volta che parlava, irradiando tutto ciò che lo circondasse. È un ragazzo in gamba che va incontro alla vita, nonostante tutto, con grande fiducia e uno splendido sorriso. Ibrahim, Elena è uguale alla mia mamma biologica, però è bianca. Questa è l'unica differenza tra loro. Dice le stesse cose che mi diceva la mia mamma, parla con me come ad un figlio, insegnandomi ad essere libero sempre.